ok 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 valutiamola ok 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 però guarda come aderente sul picchier o che la vaniglia lo siano anche ok 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 5 e 6 ok 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 guarda che bella schiumina andiamo a gusto ragazzi ok 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 c'è qualcosa che non mi convince ok 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 io faccio il poliziotto buono per il poliziotto ok ok mi dispiace ma devo dare un 3 ok bene ragazzi il video di oggi finisce qui io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buona serata ciao a tutti